Cristina Businari. Miss Italia 1967. Nata a Roma il 10 ottobre 1949, di origini venete, figlia di un rappresentante di cosmetici. Ha vinto il titolo di Miss Italia a Salsomaggiore, scalzando Tamara Baroni, esclusa all'ultimo momento poiché sposata. Dopo l'elezione inizia a lavorare nel settore della pubblicità. Nel 1968 partecipa al concorso di bellezza internazionale Miss Universo. Ragazza sempre molto attiva, è impegnata in molteplici hobby, ma in modo particolare adora viaggiare. Nel 1976 recita da protagonista nel film I ragazzi della Roma violenta. Vive a Roma!